Ciao a tutti e a tutti, io sono Anna Rizzoli, ho 36 anni, sono nata e cresciuta a Trento e ho un bambino di quasi 5 anni. Nel 2017 insieme a mio padre, Adriano Rizzoli, e ad alcuni amici abbiamo fondato il gruppo Agricultura Trentino, che si occupa di sensibilizzare la popolazione locale sul tema dei pesticidi. Abbiamo organizzato una marcia per il 19 maggio, domenica, insieme a Treviso, Verona e agli amici di Caldaro, in provincia di Bolzano. Per sostenere no ai pesticidi. Questo perché nel 2017 in Italia sono state consumate 117.000 tonnellate di pesticidi, di queste 4.014 nella mia regione, il Trentino Alto Adige. In particolare nella mia provincia abbiamo un consumo di pesticidi ad ettaro che è di più di 51 kg per ettaro di superficie coltivata, contro una media di 6,3. Arriviamo addirittura a punte di 90 kg di pesticidi per ettaro di superficie coltivata. Devo ringraziare il Comitato per il diritto alla salute della Valdinon per avermi fornito questi dati elaborati. Ricerche indipendenti hanno riscontrato fino a 5 residui di pesticidi nella mela coltivata col metodo integrato, fino a 10 per quanto riguarda la fragola. L'analisi delle acque del 2015 in provincia di Trento ha riscontrato che su 51 corsi d'acqua in stato non buono, ben 20 erano contaminati da pesticidi. Un terzo del gas serra a livello mondiale deriva dall'agricoltura intensiva. Uno studio di Alleva ed altri del 2016 ha riscontrato residui di clorpirifos nelle urine di residenti in territori coltivati in modo intensivo, melicoltura. Questi metaboliti presenti nelle urine erano correlati a danni al DNA e ha una difficoltà del corpo a riparare questi danni. Quindi clorpirifos danneggia il DNA dei residenti in aree evocate alla coltivazione intensiva della mela. Per tutti questi motivi riteniamo che i pesticidi di sintesi siano una tecnologia fuori controllo. Molta parte della popolazione, anche localmente, ha conoscenza di questo problema, grazie anche all'ottimo lavoro di sensibilizzazione fatto da Andrea Tomasi e Leonardo Fabri attraverso il loro documentario, Pesticidi Siamo alla Frutta, che vi invito caldamente ad andare a vedere. Noi siamo sostenuti nella nostra iniziativa da Navdania International, l'associazione fondata da Vandana Shiva e da Medici per l'Ambiente Italia, e chiediamo il bando totale dei pesticidi di sintesi entro il 2030, considerando che i metodi alternativi esistono. In Trentino abbiamo un 7,5% dei territori dedicati alla frutticoltura coltivati con metodo biologico, un 12% per quanto riguarda la viticoltura. Possiamo alzare di molto l'asticella e chiedere un'agricoltura biologica, biodinamica, ecologica, che garantisca realmente la tutela della biodiversità e salvaguardi la fertilità del suolo per il bene dell'agricoltore e delle generazioni future. Quindi unisciti a noi, sostieni la nostra campagna promozionale attraverso la stampa di due poster pubblicitarie di grande formato, 3x6 metri, che affiggeremo in zone sensibili della nostra città, Trento, e la realizzazione di un concerto con un bravo cantautore trentino, Francesco Camin, che è molto sensibile alle tematiche ecologiche. Aiutaci ad arrivare a molta parte della popolazione che ancora magari non utilizza i social e non ci conosce, a costituire una massa critica che faccia pressione sulle istituzioni per un deciso cambio di rotta. Sostieni la marcia Stop Pesticidi di Trento il 19 maggio per l'accesso al cibo senza veleni come un diritto democratico della popolazione. Grazie.